Santa Marina Comune in crescita. Molte opere sono in via di completamento, altre sono state già realizzate. Abbiamo intervistato il Sindaco Giovanni Fortunato che ci ha spiegato come il Paese si sta avviando verso la realizzazione della città del futuro. Un passaggio è stato fatto anche sulla politica locale, in occasione delle recenti elezioni amministrative che hanno interessato molti comuni del territorio. Stiamo completando la villa comunale a Policastro Bussentino intitolata Domenico Russo, una villa veramente speciale, bella, al centro del Paese, vicino al Cineteatro. Speriamo che per fine mese giugno di questo anno sarà inaugurata. Stiamo continuando i lavori per il completamento del porto, un'altra opola fondamentale. Il nostro auspicio era di realizzarle e completarle prima dell'estate, forse per qualche mese andiamo oltre l'estate per una questione di autorizzazione che abbiamo perso un po' di tempo. Ma sicuramente per ottobre e novembre anche il porto sarà completamente realizzato, il completamento, la rifunzionalizzazione e soprattutto anche il distributore carburante. Quindi sarà un porto attrezzato all'avanguardia, anche per consentire l'attacco a grande imbarcazione, traghette e così via, perché chi deve andare anche alle isole Olie può venire a Policastro per proseguire verso le isole Olie. Poi stiamo predisponendo l'inizio del lavoro per completare il cimitero a Policastro Bussentino, un'altra opola fondamentale di importanza, un cimitero nuovo all'avanguardia, con 30 cappelle gentilizie, 450 logoni e con spazi a verde attrezzato. Perché io credo che il cimitero è un luogo fondamentale di una società, perché il ricordo dei nostri cari io credo deve restare sempre vivo, perché rappresentano la storia e senza la storia un paese non può avere futuro. Così stiamo pianificando tutta la fascia costiera, prossimamente annunciamo l'appalto, legare i bandi per realizzare alberghi, per realizzare la discoteca, per realizzare la piscina coperta, per realizzare la palestra, per realizzare i villaggi, per realizzare i negozi. Così veramente realizziamo la città del futuro. Sono veramente contento perché siamo quasi al traguardo, quindi iniziamo entro quest'anno tutte queste attività e in 5-6 anni, veramente, realizziamo una grande città che consenterà uno sviluppo organico dell'intero territorio, ma soprattutto l'occupazione non solo dei cittadini di Santa Maria di Policastro, ma dell'intero Golfo di Policastro e dell'entroterra. Di recente nel territorio sono state rinnovate delle amministrazioni? Il mio pensiero è veramente che sono molto felice, non lo nascondo, in primis per il comune di Fano che ha vinto l'amica, l'avvocato era una persona di qualità, credo che si può, si deve collaborare per un progetto univoco. Poi si è rinnovata a Sanz, si è rinnovata a Buonabitato, si sono rinnovate diverse comunità e quindi per quanto mi riguarda la massima disponibilità per creare progettualità, condivise e soprattutto di sviluppo che possano dare l'occupazione all'intero comprensorio. Auguro all'amico gentile un buon lavoro perché Sapri possa rinascere, perché Sapri è un paese per il Golfo di Policastro fondamentale come Policastro, come Villammare, come Scario, come tutti i paesi, fondamentale per la crescita, per non morire. Abbiamo bisogno di tutti per quanto mi riguarda massima collaborazione. Qual è il suo augurio per i nuovi sindaci del territorio? Di lavorare bene, lavorare con passione, ascoltare il proprio popolo e progettare affinché si possono realizzare quelle condizioni minimi di sopravvivenza di questo territorio e soprattutto realizzare l'occupazione. Questa è la nostra crisi. E' anche un altro auguro e auspicio di una collaborazione condivisa di progetti intercomunali perché possono dare quella forza in più per farci rinascere e soprattutto decollare e far diventare questo territorio, che è un territorio bellissimo, un punto di riferimento di tutto il Sud per quanto riguarda il turismo e l'ambiente. Grazie. Grazie.